La Facility FBK è attiva nel settore delle microtecnologie ormai da un ventennio. Con un recente investimento FES siamo riusciti a portare nei laboratori un'apparecchiatura all'avanguardia, unica nel mondo, che ci ha permesso di introdurre le nanotecnologie per il settore elettronico. Con questo potenziamento la nostra Facility va a rafforzare anche le altre attività che stiamo già conducendo, come per esempio nei settori medicali, o come nei settori ambientali, o come nel settore dell'automotive. E con le nanotecnologie riusciremo a fare un balzo in avanti dando nuove opportunità al mondo della ricerca, ma anche alle aziende che potranno così trovare nuove opportunità di mercato. L'infrastruttura per le nanotecnologie appena completata in FBK ci rende estremamente competitivi per le scienze e tecnologie quantistiche, che significa la capacità di preparare, manipolare e misurare stati quantistici di singole particelle, protoni, elettroni, atomi e ioni. Il nostro intervento con le nuove tecnologie può anche aiutare gli sviluppi in quel settore strategico della conoscenza e della tecnologia che è lo spazio, ma con questo investimento riuscirà sicuramente a crescere ulteriormente rafforzando quei rapporti esistenti e incrementando la rete dei contatti. Grazie per la visione!